Sei alla prima armi con il curriculum vitae oppure hai inviato un sacco di curriculum e non hai ricevuto nemmeno una risposta positiva? Ti sei chiesto il perché? Oggi parliamo di curriculum e soprattutto di curriculum Europass, come usarlo e quando usarlo. Il curriculum vitae Europass è stato introdotto nel 2002 dalla Commissione europea per uniformare i curriculum di tutta Europa. Quindi dovrebbe essere uno strumento utile ai cittadini per valorizzare le proprie competenze e venire utilizzato sul suolo della comunità europea. Tuttavia, a meno che non sia espressamente richiesto dall'azienda o dall'ente pubblico alla quale state inviando il vostro curriculum, non è obbligatorio utilizzare questo tipo di formato. Io vi suggerisco di non utilizzarlo, almeno che appunto, come abbiamo appena detto, non venga richiesto espressamente. In Italia ho visto che è abbastanza utilizzato e spesso si richiede appunto di inviare questo tipo di curriculum in questo formato. Mentre all'estero, in certi tipi di paesi anglosassoni come l'Irlanda o la Gran Bretagna, questo tipo di curriculum non è visto molto bene dai recrute, anzi sconsigliano addirittura all'utilizzo. Per quale motivo? Nel passato il mondo del lavoro era di un certo tipo, per cui magari c'erano meno laureati, c'erano meno persone con competenze linguistiche, ora però il mondo è avanzato, quindi siamo in un mondo completamente cambiato, in un mercato del lavoro completamente cambiato. Per cui utilizzare un curriculum che in qualche modo sintetizza le vostre capacità, le vostre competenze e le riduce ad un curriculum uguale per tutti non va più bene. Una volta, come vi dicevo, magari si ricevevano 50 curriculum e solamente in 5 avevano le competenze che l'azienda richiedeva. Ora invece il mondo è sempre più complesso, siamo sempre più globalizzati e le aziende richiedono sempre di più anche quelle che sono le competenze trasversali, ma non solo. Richiedono anche degli esempi concreti di come avete applicato le vostre competenze nell'ambito lavorativo e all'interno di un curriculum come Europass questo è molto difficile. La stessa cosa vale per magari i ragazzi che sono più giovani e non hanno varie esperienze lavorative. Non fa una bella impressione utilizzare il curriculum Europass in quanto sotto Work Experience non ci sarà molto da scrivere. Su un altro tipo di curriculum invece, che è quello personalizzato, quello modello un po' più inglese diciamo, potrete invece descrivere le vostre competenze, che siano competenze trasversali, che siano cose che avete fatto extrascolastiche, che siano cose che avete fatto anche solo volontariato. Insomma, avete modo di indicare molte più competenze all'interno di un curriculum che sia in qualche modo creato apposta sulle vostre esigenze. Mi raccomando ragazzi, il curriculum è una delle cose fondamentali per cercare lavoro. Comunque è il vostro biglietto da visita, siete voi in un pezzo di carta, quel pezzo di carta rappresenta voi e tutta la vostra storia educativa, lavorativa e tutto quello che avete fatto e come siete cresciuti all'interno di un settore piuttosto che un altro. Quindi è molto importante che ci mettiate del vostro e che ci perviate soprattutto del tempo. Infatti i recruiter inglesi non amano curriculum vitae Europass per un altro motivo, proprio per questo, perché non è personalizzato. Provate a immaginare di essere un selezionatore di un'azienda e ricevere 500 curriculum tutti identici. Non è interessante, non è tutti quanti con più o meno le stesse competenze, proprio perché all'interno dell'Europass si poteva selezionare le competenze e in qualche modo ti aiuta a scrivere quello che sono le tue skills, quello che hai raggiunto. Quindi bene o male magari alcune persone ovviamente trovando quel tipo di frase adatta alla propria persona la inseriva. Quindi 500 persone avranno inserito più o meno le stesse frasi, più o meno le stesse descrizioni ovviamente perché state mandando il vostro curriculum per un tipo di lavoro, per cui anche il vostro curriculum sarà taggato proprio su quel lavoro. Un'altra cosa bella del curriculum è di farselo, quindi non utilizzare i modelli pronti come può essere l'Europass, è quello di inserire un po' il proprio livello, il proprio metodo di comunicazione. Ognuno ha il proprio, per cui anche la creatività stessa del curriculum è importante. Poi ci sono ovviamente delle basi da seguire, quindi magari nei paesi anglosassoni la foto oppure la data di nascita non è una cosa importante, mentre magari in una cultura italiana lo è. Quindi è importante magari riuscire a modificare il curriculum in base al posto in cui lo state inviando, per cui in Spagna ci vorrà il curriculum fatto in un certo modo, in Italia in un altro modo, in Inghilterra in un altro modo ancora, proprio perché ci sono delle differenze culturali che è importante rispettare. Come vi dicevo ci sono moltissime competenze e cose che fanno parte un po' della persona, quindi del modo di essere della persona, che è difficile esprimere in un curriculum e se utilizzate un curriculum che è già prefissato, che già comunque vi costringe a rimanere all'interno di una certa sfera, diciamo, è difficile esprimere chi siete veramente. Come fate nel curriculum Europass a far passare magari l'idea che siete una persona che ama lavorare in team, molto brava a mettere d'accordo le persone, ad essere un leader, una persona molto determinata che va fino alla fine del proprio lavoro. Se fate un curriculum come Europass non avete lo spazio per mettere queste cose, anche perché il formato in sé diventerebbe troppo lungo. Infatti non è adatto assolutamente per chi ha fatto molte esperienze lavorative, perché proprio il template di come è fatto Europass vi andrebbe a creare almeno sei pagine di curriculum. È una delle regole fondamentali per un ottimo curriculum che deve essere di massimo due facciate. Per cui spero che questo vi possa essere stato utile per capire che il modello Europass non è il massimo del modello da utilizzare ai giorni nostri con il tipo di mercato del lavoro che c'è ora. Invece cercate di utilizzare dei template di curriculum molto più creativi che vanno a sostenere con esempi quelle che sono le vostre competenze, quello che avete acquisito negli anni, che tipo di esperienze avete fatto. Inserite tutte le competenze trasversali. Questo vale soprattutto per i ragazzi più piccoli che magari non hanno fatto grosse esperienze di lavoro, ma che hanno fatto altri tipi di attività che li porta ad avere comunque delle competenze molto importanti e magari ricercate anche dall'azienda. Per cui mi raccomando provate a fare il vostro curriculum creativo invece di utilizzare il modello Europass pre-stampato. Se avete bisogno di una mano, soprattutto sui curriculum esteri, quindi curriculum in inglese, in francese o in altre lingue, ma anche a russo, noi offriamo questo servizio ai nostri clienti, quindi sia di redazione del curriculum ma anche di controllo del curriculum. Quindi se già ce l'avete sicuramente possiamo dare un occhio a come è stato fatto e modificare quello che è necessario modificare per migliorarlo. Vi lascio qua sotto il link così potrete guardare le informazioni e i dettagli del servizio. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Fate subscribe qui sotto, mettete un pollice in su se vi è piaciuto questo video e rimanete con noi perché durante questi mesi ci saranno moltissimi video di questo genere sul curriculum, la coverletta, il colloquio di lavoro, molti video quindi interessanti che spero vi possano dare uno spunto e good luck per il vostro nuovo lavoro. Ciao!